Buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori dopo questi giorni di festa ci ritroviamo qua alle 7 e mezzo del mattino puntuale in diretta per la rassegna stampa occhio ai giornali che comincia subito con il santo del giorno oggi è un santo del fine ottavo secolo, è un santo che ha scritto l'opera più famosa è il corpo e il sangue del Signore, tra l'altro a lui stava a cuore sottolineare la presenza reale di Gesù nell'Eucharistia che rischiava di essere invece interpretata in senso troppo simbolico dai suoi avversari vedete come la tradizione, come la fede si è portata avanti nei secoli, ognuno un pezzo nella storia della Chiesa che è arrivata sin qui allora andiamo a vedere il sole sorto alle 6.09, tramonterà alle 20.03, vediamo il tempo per oggi, oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso, temperature in diminuzione nei valori minimi, in aumento invece nei valori massimi la tendenza è per i prossimi giorni di generale miglioramento con l'instaurarsi di correnti sud-occidentali che dunque alzeranno di nuovo le temperature andiamo e cominciamo subito a leggere i giornali, il messaggero, la pagina di Pesaro apre con la vecchia banca delle marche, la carica dei piccoli rimborsi per mille obbligazionisti, esclusi 2.500 azionisti che hanno perduto tutto, settimana dunque calda, due filoni tra il decreto governativo e l'esposto che viene tagliato turismo grazie ai tornei sportivi, il maltempo non frena le presenze, a Pesaro boccata d'ossigeno, pensate 5.000 persone, altre 1.000 invece a Gabice questa è la pagina principale, torniamo e andiamo nell'interno, nelle pagine interne del messaggero sulla sanità, Ceriscioli, il governatore delle Marche, studia l'incastro, dice la delega resterà al Partito Democratico perché il governatore ha detto ieri in occasione del 25 aprile, ha detto beh insomma adesso appena avrò concluso il percorso delle riforme del settore appunto sanità, lascerò questa delega, tra l'altro una delega pesante e per certi versi così come scrive il messaggero anche scomoda, dovrebbe rimanere, anzi resterà dice lui al Partito Democratico se entrasse Volpini per mantenere l'assetto territoriale dovrebbe uscire l'Anconetana Bona, Bora, ipotesi difficile, dunque da 11 anni scrive il messaggero alla delega alla sanità, la sanità è a pannaggio del pesarese, ricorderete due mandati di Mezzolani e ora appunto Ceriscioli che è di Pesaro, sarà di nuovo il turno di Ancona, si domanda il messaggero, lo scopriremo solo vivendo, mare in un video il degrado della passarella al moletto, siamo sempre a Pesaro, l'amministrazione ha già affidato la manutenzione ma i 5 stelle filmano, filmano tutto con un, fanno un video e vogliono a questo punto chiarimenti 60 anni di Serafino, i dolci che hanno vinto la sfida della tradizione il laboratorio di Diacecchi inaugurò, pensate il 25 aprile del 1956 una pasticceria storica, diventata un'impresa familiare c'è ancora chi ricorda il decano dei pasticceri, appunto Serafino al centro di questa fotografia trasportare in bicicletta sacchi di farina in mezzo alle macerie della guerra e poi dall'ultima neve di primavera in bianca il Catria e richiama frotte di curiosi precipitazioni nevose anche sul Nerone e sul Carpegna intanto vedete dai lupi ai caprioli il bosco va in città la pagina di Fano del messaggero, referendari e ambientalisti, il collante è il no a Fosso Seggiore domani si conclude la raccolta delle firme in attesa della fiaccolata di venerdì in piazza i promotori si aspettano un forte flusso di partecipanti anche dall'entroterra il neosegretario del PD Pucci sembra smarcarsi dalla linea del sindaco e non cita il sito di Chiaruccia contro l'ospedale unico Fano Pesaro si punta a raggiungere quota 4.000 firme arrivano le visite giubilari guidate alla scoperta di opere e curiosità come il crocifisso con il Cristo che ha le fattezze di Cesare Borgia poi in un libro, in un libro la campagna di scavi sotto la Mediateca Montanare questo è il messaggero, andiamo sulla pagina di Fano invece del Corriere Adriatico sbilanciamoci una città più sostenibile dal canale di partecipazione sul bilancio richieste per piste ciclabili, parco urbano e città dei bambini caldeggiate anche l'illuminazione della pista Zengarini e le fontanelle pubbliche di acqua potabile poi sempre dalla pagina di Fano del Corriere Adriatico l'ex zuccherificio polo tecnologico e turistico Confesar Centi lancia la sua idea e plaude al percorso di condivisione intrapreso dalla giunta comunale fanese da Serrungarina, fusione a tre, si procede coinvolti i comuni di Serrungarina, Montemaggiore e Saltara appello ai cittadini c'è un incontro pubblico, all'incontro pubblico di domani sera racconterà la sua esperienza il sindaco di Trecastelli tanti sono i vantaggi secondo lui e comunque l'appuntamento è per domani alle 21 a Tavernelle di Serrungarina poi a Montefelcino invece multe fino a 500 euro per l'uso di fitosanitari su richiesta di numerosi cittadini il Comune di Montefelcino ha nuovamente pubblicato il testo integrale dell'ordinanza che ha come oggetto appunto i provvedimenti in merito all'uso di prodotti fitosanitari in agricoltura per la tutela della salute pubblica e delle acque fluviali la pagina di Pesaro invece del Corriere Adriatico pubblica un pezzo sempre sulla sanità e sull'ospedale che per ora è sempre lì in previsione a Fosso Signore sabbia e acqua fondamenta fino a 20 metri per il nuovo ospedale previsti più di 1500 pali profondi e c'è un rischio idraulico la struttura poggerà su un reticolo di plinti che supererà lo strato di detriti limosi a gravio di costi impermeabilizzati 5 ettari a ridosso del torrente vasca di compensazione pensate più grande di una piscina olimpionica l'altra pagina è quella di Senigallia invece del Corriere Adriatico troppo alcol movida violenta rissa tra giovani al foro annonario un avventore molesto in un bar e un automobilista pericoloso in vista dell'estate arrivano in commissariato i rinforzi del reparto anticrimine di Perugia spiaggia di Valluto in lutto è morto Giuliano Zavatti figlio del primo sindaco era stato assessore e dirigente dell'USL in attesa dei funerali sarà aperta la camera ardente all'auditorio Massan Rocco e a tre castelli è stato ricordato il partigiano Grossi e la resistenza dunque nella valle del Misa adesso invece andiamo sul resto del Carlino si parla della terra dei motori Valentino Rossi riapre la partita e dopo il trionfo in Spagna a Tavuglia torna dunque la febbre ritiriamo fuori il maxischermo dice Francesca Paolucci il sindaco di Tavuglia ora la prospettiva è c'è ricominceremo dunque ad organizzare gli eventi come nel 2015 la pagina di Fossombrone invece con il programma e l'intervista alla vice sindaco attuale Michele Chiarabilli che si candida a guidare la città forsempronese il sindaco, il candidato illustrerà la sua lista giovedì sera in comune che fare nei primi 100 giorni di governo dice lui se dovesse vincere le elezioni interventi sulle strade e nel sociale poi anche il resto del Carlino ricorda la neve caduta ieri a Monte Nerone e gli spazzaneve che sono entrati in azione nella parte più alta della montagna l'ospedale o meglio la pagina di Fano l'avrei saltata volentieri oggi ma comunque sono obbligato tra virgolette a leggerla dunque aborti a Fano tutti obiettori Sinistra Unita presenta una mozione in consiglio la Luzzi Carla Luzzi di Sinistra Unita attività garantita solo con personale che viene da Pesaro l'altra pagina invece e chiudiamo la nostra segna stampa è morto Norberto Crinelli una vita tra la CISL e il baseball aveva 69 anni e da tempo combatteva con coraggio contro la malattia dal 1993 al 2005 diresse la segreteria provinciale della CISL poi è andato in regione la sua attività sindacale lo ha portato alla vice segreteria nazionale dei lavoratori edili e dunque con questo ci fermiamo qui grazie per aver seguito la nostra segna stampa noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.